Ehi, sono Gerrod. Scampai per un pelo la morte perché il mio amico cercò di aprirmi l'addome per prendermi cose nella pancia. Sì, sono ancora vivo per raccontarvi la storia, ma onestamente ci ha voluto del tempo per stare bene. Non so se sono introverso o estroverso. Amo fare amicizia, ma lo faccio meglio attraverso i social. Dovete sapere che scrollavo il mio newsfeed e stavo a mettere i like invece di uscire nel weekend. Lì un posto della mia pagina di viaggi preferita mi colpì. Una tipa disse il pensiero su quanto fosse stupida e incauta alla gente che pensava di essere figa e migliore di altri per viaggiare con lo zaino da sola. E aggiungeva che era meglio risparmiare ed essere più responsabili provando i pacchetti turistici. Ah sì? Vende pacchetti turistici o cosa? Ho commentato subito, cosa che non farei mai nella vita reale, dicendo quanto fosse miope, infantile, codarda e povera. Le mie parole ricevettero tanti like. Poi un tipo mi chiese l'amicizia e iniziò a chattare con me sui suoi stessi sentimenti e subito andammo d'accordo. Il suo nome era Travis, un tipo di 31 anni nel nord-ovest, vicino a Portland. Presto chiacchieravamo ogni giorno. Io trovavo i migliori posti per campeggiare e lui condivideva le sue esperienze di campeggio, trekking e avventure in solitaria. È folle. Potrebbe essere una serie Netflix. Come conobbi la mia anima gemella. Le vacanze estive si avvicinavano e Travis mi invitò a visitare l'Oregon molte volte, ma esitavo a mettere Portland nella mia bucket list estiva. La mia ultima estate da studente deve essere indimenticabile. Travis mi convinse dicendo che organizzavo un piccolo festival musicale con degli amici a Portland e voleva parteciparsi. Dato che suonavo la chitarra, colsi l'occasione di CDC senza nemmeno pensarci. Potrebbe essere più figo? Sì, il festival avrebbe finanziato il mio viaggio. È un bel rischio. Non lo conoscevi questo tizio? Che razza di amico online ti paga il biglietto aereo, l'albergo e pure tutto il cibo. È interessato a te in quel senso? Oh cavolo, i vecchi, noiosi e scettici genitori non vedevano mai il lato positivo del mondo. Ho 17 anni e non ero affatto stupido. Uscendo dal terminal dell'aeroporto di Portland, ho riconosciuto subito Travis e la bimba che teneva doveva essere sua figlia, Anna. Mi salutarono eccitati e il mio cuore si sciolse per quel momento. Ci siamo salutati come dei vecchi amici e sua figlia continuava a parlare con me. Mi senti subito a mio agio. Avrebbero reso la mia esperienza memorabile. Durante il tragitto verso la città, Travis mi parlò molto del festival e malgrado gli sforzi per non mostrare l'ingenuità, non controllai la mia eccitazione infantile. Wow Travis, lo spettacolo sarà epico. I miei potranno vedere quanto sono bravo. Oh Anna, sei emozionata di vedere il tuo papà bruciare il palco domani? Vidi subito i suoi occhi tristi. Non posso esserci. Hai un appuntamento importante con il medico, non ti ricordi? Travis si rivolse a me. Anna ha una malattia ai reni. Il posto è pericoloso per lei. Oh Gerrod, non lasciare che ti influenzi. Domani ci dirà se potrà fare un trapianto di rene. Buona fortuna, dissi. Suonerò per lei domani. Travis mi lasciò al mio hotel e disse che mi avrebbe preso alle 19 per la cena. Avevo il giorno libero, ma non persi tempo riposando. Usci subito a esplorare. Andai subito al giardino giapponese del Portland, che era incredibile. Poi andai al Portland Zoo. Dopo feci un salto al negozio di souvenir dello zoo per fare un regalo ai miei. Vidi un piccolo vaso che mia madre avrebbe amato, ma mentre lo prendevo qualcun altro lo prese dall'altra parte dello scaffale. Guardai su e fui sorpreso di vedere una bellissima tipa in piedi. Purtroppo quel vaso era unico nel suo genere. Che ironia. Eppure glielo diedi, perché cosa posso dire? Sono un gentiluomo. Tuttavia lasciato il negozio mi venne dietro corrento. Aspetta, ho qualcosa per te. Mi girai e con sorpresa mi diede il vaso. Penso che tu sia un turista, vero? Ti prego, tienilo, posso trovarne un altro per me. Oh, che ragazza dolce. Davvero? Non potrei essere più grato. Ti va di unirti a me per un caffè? Mi piacerebbe, ma devo tornare al lavoro. Spero ti divertirai a Portland. Corse via prima che potessi salutarla. Wow, i tipi di Portland sono i migliori. Forse sarei andato all'Università Portland invece che in Arizona. Amo questo posto. Dopo ciò tornai all'hotel per prepararmi e alle 19 in punto Travis venne a prendermi e andammo in un ristorante a buffet. Prima di sederci, Travis chiese se volevo un drink e disse che il ginger beer era buono. Certo, perché no? Così dissi di prenderne uno e andò al bar. E aveva ragione, era fantastico. Così come il cibo, era delizioso. E devo averne mangiato quattro piatti prima di sentirmi un po' male. Qualcosa non va. Guardai giù e vedi che c'erano gamberi in una delle insalate. Oh no, sono allergico ai gamberi. Senza dire nulla andai su, corsi in bagno e cercai di vomitare il cibo e il ginger beer. Ero felice che fosse un buffet con cibo illimitato. Così potevo mangiare da capo. Tornando al tavolo, vedi che Travis mi stava scrutando nervosamente. Stavo per andare da lui e dirgli che stavo bene, ma poi mi girò la testa, caddi a terra e poi tutto diventò nero. Quando aprì gli occhi c'era una luce intensa che brillava su di me. Dove stavo? Cercai di alzarmi, ma non potevo. Oddio, i miei arti erano legati al letto. Questo si chiamava un letto. Mi guardai intorno, ma non vidi nessuno. Poi capì che ero in una sorta di sala operatoria. Anche se era sporco per essere un ospedale. C'erano alcuni strumenti vecchi su uno scaffale polveroso. Tutto era vecchio e arrugginito. Dovevo uscire da lì. Cercai di muovere i piedi, ma erano legati troppo stretti. Chi l'aveva fatto? Di colpo qualcuno entrò nella stanza. Era Travis. Dietro di lui c'erano altri due tipi con abiti da chirurgo. Travis, cosa succede? Sto benissimo, è solo una normale reazione allergica. Fatemi uscire! Travis sarà sorpreso di vedermi sveglio. Oh, pensavo saresti svenuto per ore. Avrei dovuto darti più anestetico in quel ginger beer. Poi si girò verso il tipo simile a un dottore. Chad, dagli più anestetico, ti dispiace? Aspetta, cosa vuoi? Puoi avere i miei soldi e le cose, io non lo dirò a nessuno! Iniziò a camminare verso di me con un ghigno sinistro sul viso. Non avresti dovuto svegliarti. Dato che ci hai visto, c'è solo un modo per sistemare il casino. Si avvicinò a me con una siringa e io urlai, lasciami andare, lasciami andare! Ma non aveva voglia di fermarsi. Andiamo, o vuoi vedere la tua pancia che viene sventrata? Cosa? Quindi volevano aprirmi la pancia? Sventrarmi come un pesce? Mi dimenai per non farlo iniettare. Il letto di ferro tremava forte. Sì, fino all'ultimo respiro. D'improvviso la porta si aprì e la polizia corse dentro. Era un flash prima della mia morte? Fermati, sei in arresto! Le loro grida mi portarono alla realtà. Presero Travis e i due medici e li ammanettarono, mentre un altro mi slegò. Mi portarono fuori e mi fecero salire su un'auto della polizia. La mia anima non era tornata nel corpo, ma quando guardai alla mia sinistra, ebbi paura. La tipa del negozio di souvenir era accanto a me. Oh mamma mia! Cosa ci fai qui? Mi mise una mano sul braccio e disse, una nottataccia, vero? In realtà sono un agente in borghese e indago su un traffico di organi. Quel Travis che ha finto di esserti amico, in realtà fa parte del gruppo. Non tutti sono stati fortunati come te, Gerrod. Molti giovani sono stati incastrati. Poi mi disse cos'è successo. Scopri che oggi segui Travis e lo vide passare a prendermi e andare al ristorante. Segui Travis quando andò al bar e lo vide mettere qualcosa nel mio drink. Poi quando ti vidi svenire, tutti si misero intorno, ma Travis disse che eri solo ubriaco e ti portò via. Lo seguì e chiamai la polizia, ha detto. Oh no, 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 in cosa diavolo mi ero cacciato? È folle, potevo perdere i reni o altro. Aspetta, potevo morire. Sì, potevamo non farcela senza il tuo sforzo per allungare il tempo. Ma come mai non hai sentito gli effetti dell'anestetico? Mi chiese. Ci ripensai e capì. E oh, mi venne da ridere. È stato il gambero a salvarmi. Mi provocò il vomito e vomitai gran parte dell'anestetico. Se non fosse stato per il gambero, chissà cosa sarebbe successo. Non voglio nemmeno pensarci. Per un pelo. Manco in un milione di anni avrei pensato di trovarmi in qualcosa di così pericoloso. Stavolta lascerò che i miei scettici genitori di canotella avevo detto milioni di volte. Dobbiamo stare attenti, specie quando si tratta dei nostri reni. Forse i pacchetti turistici non sono male, vero?